Oggi sono orgoglioso di essere qui senza pensare a dove avrei potuto essere. Vi assicuro che nel momento in cui sono stato chiamato non ho pensato minimamente a dove sarei potuto stare un mese fa, due mesi fa, cinque mesi fa o un anno fa. Subentrando a Walter Zenga, Cersei Cosmi è il terzo allenatore del Venezia in questa stagione. Raccoglie la squadra al quintultimo posto in classifica per ribaltare una striscia negativa che rischia di essere molto pericolosa. Il tempo a disposizione è limitato e si scende in campo già lunedì sera con un impegno tutt'altro che facile. Al penso arriva un Palermo lanciato verso la promozione. Il mio lavoro sarà inevitabilmente orientato a quello che è l'immediato. Io credo che solo un folle oggi può pensare di arrivare a 11 giornate dalla fine, che come il Presidente ha definito 11 finali, 11 battaglie. Pensando di poter stravolgere o poter, tra virgolette, educare un gruppo ad un sistema di gioco. Le ultime 11 partite dovranno essere affrontate come 11 finali, nelle quali oltre all'aspetto tattico sarà importantissimo l'approccio mentale. Io ho sempre pensato che il sistema di gioco ha un valore vero e fa diventare straordinaria una squadra nel momento in cui si attivi veramente quello che è un aspetto nervoso, un aspetto di atteggiamento, un aspetto di consapevolezza delle proprie qualità. È un aspetto questo sul quale Cosmi insiste molto. Il livello della Rosa del Venezia è sicuramente buono, ma ha reso al di sotto delle sue potenzialità. Questa è una squadra che ha dei valori. Bisogna capire come mai, io credo che anche gli infortuni abbiano contribuito. Però non solo gli infortuni, come mai alcuni giocatori non si sono espressi secondo quelle che sono assolutamente le loro qualità. E quindi hanno questa grande opportunità loro di farmi vedere a me in 11 partite che mi ero sbagliato. Grazie.